Prevenire i reati aumentando la percezione di sicurezza nei cittadini. Questo è il motivo che ha spinto sei comuni della provincia di Isernia a sottoscrivere con il prefetto Fernando Guida i cosiddetti patti per la sicurezza urbana. Sentiamo. Una sottoscrizione che mira ad aumentare la sicurezza nella provincia di Isernia. I sindaci di Capracotta, Castel San Vincenzo, Chiauci, Pesco Lanciano, Vasto Girardi e Rocca Sicura hanno fatto un passo in questa direzione, aderendo all'accordo dei patti per la sicurezza urbana, siglando l'intesa con il prefetto Guida alla presenza del presidente dell'Anci Molise, Pompilio Sciulli. I patti, previsti dal decreto legge numero 14 2017, saranno quindi un deterrente per prevenire i reati. A seguito della sottoscrizione potranno dunque essere presentate le richieste di finanziamento dei progetti di videosorveglianza che dovranno possedere requisiti specifici di ammissibilità. Ad esempio, il tracciato del sistema di videosorveglianza non deve sovrapporsi con i progetti già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali o regionali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni e non è comunque ammissibile il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati. Il progetto dovrà essere preventivamente approvato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, che ne valuterà la conformità alle caratteristiche prescritte dalle direttive impartite dal Ministero dell'Interno. Per rendere possibile l'esame da parte del Comitato e la predisposizione della relativa relazione da parte della Prefettura entro il 31 agosto, i comuni dovranno inviare gli incartamenti necessari alla Prefettura entro il 30 di giugno. Il Comitato provvederà quindi a redigere una graduatoria dei progetti, che se valutati positivamente saranno ammessi al finanziamento secondo l'ordine deciso e fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie, che per il 2018 ammontano a 15 milioni di euro. Ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste è la dimostrazione da parte del Comune della disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione del sistema di videosorveglianza per 5 anni dall'ultima azione dell'installazione. Nell'esprimere soddisfazione per la sottoscrizione dei patti, il Prefetto guida e rimarca il ruolo importante che i sistemi di videosorveglianza possono esercitare sul territorio, poiché uno strumento prezioso per prevenire i reati a cui consegue un positivo impatto sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.